Sarà completato entro fine febbraio il bypass che congiunge la 19 direttamente con la città. È stato Raffaele Cilia, commissario straordinario delle opere ANAS per la Sicilia a spiegare le ragioni dello stop. I tempi di consegna sono slittati di due mesi, doveva essere completato a dicempre, ma le continue piogge hanno impedito i lavori del manto stradale perché il terreno è argilloso dunque. Se non ben asciutto non vi si può lavorare sopra, rischio di perdere il lavoro. E rifare nuovamente al momento lo scavo della sede stradale della zona in trincea è già completato. I lavori più consistenti del movimento terra sono stati conclusi e si procederà verso la conclusione dei lavori in qualsiasi condizione meteorologica perché non sarà influente sulle operazioni di completamento. Si chiama dare traffico in gergo tecnico il momento in cui la strada diventerà percorribile. Ecco, quel momento dovrà avvenire entro fine febbraio, assicurato Cilia. Il contraente generale Empedocle II intanto sta completando l'installazione dei gardelei della carreggiata che si attacca al bypass temporaneo. Entro fine mese la strada di aggancio che esce da una corsia delle due gallerie dovrebbe essere completata. Grazie.